Benvenuti nel mio canale! Scusate di riporto via, sono Frank Mazzoni oggi in compagnia di Sistema il cuscino e arriva subito. Grazie a questo ragazzo andremo a scoprire un nuovo gioco che mi ha fatto vedere questa mattina. Il gioco in questione si chiama? Spot Friend. Ok, in questo gioco siamo... Aspetta, diamo il via al gioco. Oh, è nuovo con la modalità lì, con il martello. Avviamo il gioco, perfetto. Questo è il gioco. Avvio il mio. Ah, non devo avviare, solo uno va avviato. Faccio io che è Bari Bari. Bari Bari Bari. Bari Bari. Facciamo questo. Start game, ok. Bari o Bari? Scegli te questo. Io... No, uno Bara, sembra Bara da morbo. Bari, sono dei peri. No, Bari Bari. Ok, io Bari, dai. Bari Bari. Scegliamo i personaggi. Popò Yoshi. Rando, Rando Popò ti è casuale. Sari... Io voglio Popò. Cos'è la Sara? Sari. Popò? Io Yoshi, dai. E faccio una Sky O. Non so cos'è? Dai, lo prendo io. Va bene. Pronto? Anch'io. C'è già giocato, questi sono i quadri, vabbè, i livelli di risposta, diciamo. Sì, sì, lo scelgo io, lo scelgo io. Velocemente, il nostro pubblico vuole vedere subito il gioco. Siamo il capo cantiere. Siamo il capolavoro. Quello difficile qual è? Questo è quello difficile. Siamo vestiti in tema sportivi americani. Vai, vai, vai. Sapete che si fanno un po' di gara a gara? Vai, vai, vai. Ok. Io dovrei essere un nano schifoso. Io già volo, proprio. Oh, bello. Ah, per Mace vuole tante ore. Aspetta, come hai fatto per prendere la palla? Sì, non lo so. Non capisco come c'è a fare. Ma che è stato giomani? Ah! No! Non devi cadere questa. No, no, devo. Io devo fare la cadere dalla tua parte. Sì, ho fatto cadere a te. Come la palla dalla mia parte? Ho vinto. Ho vinto per me. Goal. Chi ha fatto gol? Io. Perché? Eh, perché ti ho buttato la palla nella... 1 a 0 per quella ragione. Ah, per te. Sì, capito, capito. Lo punto alla pallina dalla tua parte. Perché me la feglia? L'ha sbagliato. Gli sto volando la te. E' so caduto nell'acqua con la palla. Che succede? Out. Fuori. Eh, appunto a me, un out. Va bene. Importante che la palla accade dalla tua parte. E se io andassi subito in acqua così? Vabbè, dai. No, così no. Ma tolto il put. Forse devi andare un po' dietro. Che ciole di merda. Ma ti che gioco di merda. Come due parti? No, io te lo faccio. Devo dire la grafica di questo gioco. No, ma perché io faccio dalla tua parte? Sono un caicchio. Io posso saltare nell'aria che ho sotto. Beh, diciamo che sono già fuori. No, perché due gol te lo faccio a me stesso. Vabbè. Proviamo un altro giochino di questi mini giochi. Consigliamene un altro. Oh, dammi un altro. Dove vuoi? Questo, vabbè, sono una cavolata. Io ti devi fare quello. Proviamo. Magari è nota. No, vediamo. Green, verde o viola? Che colore vuoi? Viola, non è viola. Viola, non è viola. No. Due insieme, forse. Ah, così devi dividerli. Ah, come faccio? Aspetta, eh. Premiere uno. Ah, ho capito. Di là, di là, su green. X. Ah, ma puoi scegliere il coloro? Ah, puoi scegliere il coloro? Ah, puoi scegliere il coloro? Vabbè, dai, io tengo questo. Aspetta, la mia. Quei po' vai che su qua. Eh, guarda. Dubbissimo. Eh, certo. No, no. Giusto qua. Quello difficilissimo. Non mi schiappi scegliete. Guarda, poi va. Non so esattamente cosa c'è da fare. Eh, dai, fa il gol. Gol come? Ah, ma noi siamo... Ah, ma noi siamo... Ah, dobbiamo muovere... Ah. Allora, con le leve... Con questa leva muovo l'8. Con questa l'1. 8, 1. Ma non so cosa devo fare. 8, 1. Forse dobbiamo andare con... Possesso... 2 ha fatto possesso palla. Guarda, ricerlo. Riproviamo, guarda, sono curioso. Forse devo prendere qualcosa. Guarda se c'è una palla. Eh, qual è la palla? Accento. Prendiamo quella. Presa, ok. Dovamo a tenere la palla... Il quadrato o l'arangelo? Il quadrato? Ah, ma devi colorare tutto con lo spazio, credo. Devo stare qui dentro. Non sa farmi fregare la palla. Ti vedrai, hai il tasto per fregare la palla. Attenzione, attenzione, attenzione. Yeah, signore. Io non ho capito niente. Sì, va bene. Mi hai consigliato te questo gioco? Sì. Direi di andare avanti con questi giochi. Serve di eliminare. Controlliamo l'ultimo. Sto facendo un video, vai. L'ultimo. Direi di andare su questo qua. No, no. Quello dell'asta. Questo. Questo sembra bello. Cosa è? Cosa è? Ma... C'è l'hamburghia? Allora, andiamo su Asta. Mendes e Manuten. Vieni. Io voglio questo. Io questo. Oddio, il vecchio. Iber. Io voglio lui Marco. Marco Olmes. No, Marco lo voglio io. Il mio amico del Marco. Dai, lui sei il mio Marco. Io voglio Olmes. Olmes, dai. Anzi, il vecchio. Il vecchio, il vecchio. Eita. Vai, Marchino. Facciamo queste... A casa, dai, casuola. Ando, con chi viene io. Allora, questo è Marco, quindi eh. Il mio amico Marco con la sua Asta. Cosa c'è a fare? È un pisellone. Cosa darci testa questa roba? No. Ah, no. Bisogna portarla alla nostra base. Ah, no. Sto capito, capito, capito. Ma va, Marco. Aspetta. Ma è complicata sta roba. No, no, no. Allora, se io muovo su. Questo muovo l'asta, in qualche modo. Eh, no. Questo di qua non fa niente. Mi muovo in pasta, non mi muovo. C'è difficilissimo. No. No, no, no. Bravo. Ah, no, no. Mi ho capito. Devo andare dall'altra parte. E levati, ciccione. Ma mica lavori. Un gran mattito. No, no, no. Ecco qui. No, no, no. E' un gran mattito. Eeeh. Grazie, te lo sei fatto da solo. Ci ho fegato. Ah, ok, ok. Capito, capito, capito. D'altra parte. Allora, va bene. Allora, no, no. Eeeh. 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 Pallina, pallina. Pallina di là, pallina di là. No. E' una, no. Eccolo. Eeeh. Elevati, ciccione. No, 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 no. Siiii. Sì, 2-1, no, 2-0! Sì, 2-1, no, 2-0! Non ho dato il secondo! Dai, 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 dai! Ecco! Allevati! Ho preso un po' di vantaggio! Ho preso un po' di vantaggio! Dai, grazie! No! Oh, ma te come fai a essere così poco? Ma va, va, va! Te non hai già giocato a questo giochetto? Te lo conosci un po' troppo! Ragazzi! Madonna ragazzi! Non sei poi una cosina! Non sei poi una cosina! No, 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 no! No, è, è un... Uuu! Uuuu! Cosa? Ti puoi anche, usare l'asta, vuoi vedere il salto con l'asta! Aspetta, non puoi vedere il salto con l'asta! Tornare! Ma qui non lo puoi fare! Perché c'è la cosa sotto! fa amelato 40 secondi alla fine no 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 3 1 e andiamo hai vinto e vediamoci dovrebbe essere l'ultimo di questi giochini qui allora aspetta fammi vedere amianto al primo era questo schifoso non so cos'era, questo di cos'era? della palla che schifo questo? non l'abbiamo fatto ok questo salto dell'asta e questo? facciamo l'abbiamo fatto quello che deve prendere qua quella palla no quella palla con cui io mi... ah no non mi sembra il miglior gioco dell'anno è la mutola se basta se basta e ora? c'è la suonare? e ora? te l'hai fatto bene? sai qualcosa? no ho anche io non ho fatto niente non ho toccato nulla ha detto lui così non l'ha toccato io cosa sei? no non sei è problema via vince tutto get ready to just cosa faccio? ah guarda guarda i livelli c'hai dei livelli non riesco a capire cosa ce l'ha a fare quindi ho mosso ho mosso così sai c'era una lancinata riproviamo sono curioso sono curioso eh ammire lei non muovere questo così è vero no se lo muovo? no ammire sono morto subito go premola x non succede niente quadrato non succede niente tasti sopra non succede niente ah è vero non bisogna girarlo hai girato? si e come si parla? non si sta fermo no dovrai far qualcosa forse andare in tonalità giusta forse fare su e giù così si aspetta non c'è troppo così si aspetta non c'è troppo non c'è troppo aspetta non c'è troppo questo è un gioco di me no preferivo che direi non ce l'ho un'altra volta però ci vuole più stare si basta signori e signori allora arrivati a questo punto possiamo dire che sport friend è un gioco non l'abbiamo fatto uno quale? indietro aspettate aspettate perchè ancora è da decidere potrebbe anche esserci la riuscire questo l'abbiamo fatto quindi non fare cose già fatte fatto e fatto fatti tutti ok signori e allora diciamo che questo gioco come dire è un gioco di me l'unica volta che non gli do uno schiaffetto perchè c'è una parolaccia perchè è giusto questo gioco non è all'attezza della playstation non li fate se sei un giapponese e non sai che cosa fare fatti un origami fai un origami non fatti giochi in merda va bene? ok poi possiamo bene sport friend è finito siamo qui io e il mio compagno abbiamo qualcosa da dire su questo gioco è un gioco che fa veramente vomitare benissimo perchè è molto schifoso pixeloso noi non siamo giocatori alla minecraft ok? ci vediamo al prossimo video un saluto da frank mazzoni e egli escantonio 014 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti